Abbiamo scelto di farlo a fianco a quello che credo essere stato un ottimo sindaco per la nostra città, sfido chiunque ad amministrare una città senza soldi, ereditando, come dicevo Salvo, un miliardo e duecento milioni di euro di debiti. E allora io a bianco direi, fare notare semplicemente, bianco dico bianco perché credo che ad oggi sia l'unico competitor in termini non di credibilità, attenzione, ma in termini di sostegno elettorale. Era facile amministrare quando arrivavano i miliardi ogni mese da Roma piuttosto che da Palermo. Poi su questo, breve parentesi, credo che sia anche incredibile come Crocetta oggi abbia dichiarato che se vince bianco avrà una regione amica. Quindi vi chiedete se non vince che succede? Si dimentica di Catania? Ecco questo è il modo di fare politica che non ci piace. Il PRG è stato bloccato dopo che era stato votato e assunto con delibera consigliare solo per meri giochetti politici da parte della regione, ovviamente governata da Crocetta. Ecco questo è quanto di più lontano da noi, proprio da come vogliamo immaginare un percorso politico e un modo di fare politica.